Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove tratteremo l'argomento del mercato. In qualche modo cerchiamo di fare un resoconto di quanto fatto finora. Abbiamo attraversato la teoria del consumatore e la teoria del produttore. Il consumatore è colui che con il proprio reddito consuma dei beni prodotti dal produttore. Di conseguenza il consumatore e il produttore aggregati, quindi tutti i consumatori e tutti i produttori, formeranno poi la domanda e l'offerta di mercato. Quindi andando a parlare di mercato sappiamo che il mercato è contraddistinto da due forze agenti, che sono la domanda e l'offerta. La domanda è intesa come aggregazione, ovvero come sommatoria delle quantità richieste dal singolo individuo, quindi le quantità domandate dal singolo individuo. La sommatoria delle quantità domandate di un determinato bene da parte di tutti i consumatori della comunità danno come risultato quella che viene chiamata la domanda aggregata o domanda di mercato. Allo stesso tempo la sommatoria delle quantità offerte o prodotte dai singoli individui produttori chiaramente darà la quantità cosiddetta offerta. Ora chiaramente gli individui produttori possono essere da 1 a n, chiaramente se l'individuo produttore è 1 il mercato di riferimento sarà il mercato monopolistico. Al contrario se invece l'offerta sarà contraddistinta da 2, 3, 4 agenti, chiaramente questo sarà un mercato oligopolistico. Oppure se effettivamente l'offerta sarà polverizzata a n imprese, quindi ce ne saranno davvero tante, si parlerà appunto di concorrenza. Dall'altro lato parleremo di concorrenza quando anche gli individui che domandano sono infiniti, quindi anche quando la domanda è polverizzata, e parleremo invece di monopsonio nel momento in cui la domanda è formata da un unico individuo. E' un caso molto particolare quando abbiamo un unico individuo a comprare e tanti invece individui produttori a produrre quel bene, chiaramente parleremo di monopsonio che è un po' il contrario del monopolio. E quindi dicevamo la funzione di domanda è una funzione decrescente perché chiaramente la legge della domanda vuole che al crescere del prezzo la quantità si riduca. Chiaramente per chi ha studiato i video precedenti sa bene che questa legge della domanda avviene meno nel momento in cui si parla di beni di Giffen, sono gli unici tipi di beni per cui non vale la legge della domanda in quanto all'aumentare del prezzo il consumatore ne comprerà in quantità maggiori. E poi invece abbiamo la funzione di offerta che al contrario è una funzione crescente, quindi al crescere del prezzo l'individuo che produce potrà produrre sicuramente più unità. Per cui l'incontro tra la domanda e l'offerta genererà quello che viene chiamato l'equilibrio di mercato. L'equilibrio di mercato è quel punto in cui ad un prezzo di mercato viene venduta una determinata quantità. Quindi è un punto in cui il consumatore e il produttore trovano un accordo di scambio. Ora chiaramente su questo grafico che abbiamo appena disegnato c'è da registrare qualche coordinata. Ad esempio, la coordinata qui in alto, quindi l'intercetta verticale della funzione di domanda, è detto prezzo di riserva. Cos'è il prezzo di riserva? È il prezzo massimo al quale il consumatore è disposto a comprare il bene. P-star è chiaramente il prezzo ottimo, ovvero il prezzo di mercato. E chiaramente se il prezzo di riserva è qui su e il prezzo ottimo è qui, la distanza che c'è tra il prezzo di riserva, cioè quello che il consumatore voleva pagare, e quello che poi effettivamente paga, è un benessere per il consumatore. Questo benessere, se lo sommiamo a tutti i benesseri che hanno tutti i consumatori che si trovano su questa porzione della funzione di domanda, che è quella che fa parte del mercato, perché chiaramente questa porzione è fuori dal mercato, otterremo un'area. Un'area triangolare, come quella che sto evidenziando, quest'area triangolare è detta area del surplus dei consumatori. Quindi, cos'è il surplus? È quel segmento che va da quanto siamo disposti a pagare a quanto paghiamo. Ovviamente il surplus non è un segmento, perché il segmento è di un unico consumatore, ma se noi andiamo a sommare tutti gli altri consumatori, chiaramente otterremo un'area. Quindi, quest'area triangolare, compresa tra il prezzo di riserva e il prezzo di mercato, al di sotto della funzione di domanda, è il surplus dei consumatori. Viceversa, dal prezzo di mercato in giù, avremo l'area dei produttori, che chiaramente al di sopra della funzione di offerta che sta nel mercato, perché questi sono fuori mercato, avremo anche qui, chiaramente, il surplus. Però, questa volta, surplus dei produttori, chiaramente. Quindi, dal prezzo minimo da cui parte l'offerta, al prezzo a cui poi vendono effettivamente i produttori, questo è il surplus dei produttori. Ovviamente notiamo che in un grafico di concorrenza perfetta, il benessere sociale è completamente ripartito tra produttori e consumatori, e quindi non c'è assolutamente nessuna perdita di benessere sociale, cosa che invece ci sarà nel momento in cui lo Stato potrebbe introdurre delle modifiche al prezzo di mercato, introducendo delle tasse, piuttosto che dei sussidi, o delle imposizioni di prezzo, intese come prezzo minimo e prezzo massimo. Chiaramente, tutte queste variabili saranno oggetto dei prossimi video, questo è semplicemente un video introduttivo alla teoria del mercato, per cui in questo video ci fermiamo qui e riprendiamo tra un attimo con un primo esercizio sulla funzione di domande e offerta e sul calcolo dell'equilibrio del mercato perfettamente concorrenziale. Vi lascio quindi allo studio della teoria di questa parte e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!